L'intera Italia è avvolta da una bolla di calore con temperature dai 37,8 gradi in su per almeno tre giorni consecutivi. Il responsabile è l'anticiclone africano Caronte che ha fatto aumentare il caldo che durerà almeno fino a mercoledì. Dunque di giorno all'ombra si toccano quasi 40 gradi, con punte in Sicilia e Calabria fino a 45 gradi. Insomma, dei picchi che fanno veramente paura. E' stato lo stesso Ministero della Salute che ha contrassegnato con il Bollino Rosso alcune città italiane che partono da nord a sud, indicando così il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Ieri erano 17, oggi sono 20 le città col Bollino, domani arriveranno a 23. Tra queste c'è Reggio Calabria. Nella città in riva allo stretto si prevedono picchi fino a 44 gradi. Il Ministero raccomanda alle Regioni l'attivazione del cosiddetto codice calore, ovvero un percorso assistenziale e preferenziale differenziato nei pronto soccorso per permettere di affrontare in maniera più efficace l'ondata di calore. E se tutto sarà confermato, si tratterebbe di un vero e proprio record dell'inalzamento delle temperature. Un record europeo superiore non solo al valore di 48 gradi riconosciuto ufficialmente. Che pensate, è stato registrato ad Atene il 10 luglio del 1977, ma anche superiore ai 48,5 gradi registrati nel lontano 1999, sempre in Sicilia, a Catena Nuova, in provincia di Enna, da una stazione posizionata in condizioni non standard. Il Ministero della Salute ha emanato le 10 regole che serviranno a proteggersi da eventuali conseguenze negative dall'ondata di calore. Certamente una delle più importanti è quella di non esporsi nelle ore più calde della giornata ai raggi solari, una particolare raccomandazione per i più piccini, ma anche per gli anziani. E nella nostra bella regione rimangono due chance importanti, quelli di recarsi in montagna, dove le temperature si abbasseranno certamente negli straordinari boschi, oppure direttamente in mare. L'acqua certamente mitigherà ogni tipo di sofferenza corporea al caldo. Anche lì evitare di esporsi al sole e rimanere giustamente a mollo. Grazie. 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 Grazie.